e voilà ma questa è la torre Eiffel l'ho presa durante un viaggio a Parigi nella bellissima Francia wow Parigi sembra un posto fantastico raccontami un po di più Parigi è davvero una città affascinante è famosa per i suoi monumenti musei la cultura la torre Eiffel è solo uno dei tanti simboli di questa città magica wow la Francia è davvero un posto meraviglioso mi piacerebbe fare su e giù dalla torre Eiffel Eiffel l'ho presa A presto A presto A presto A presto A presto